e abbiamo una tier list è una tier list molto particolare perché è una tier list di quale streamer diventerà pelato dobbiamo decidere prima le categorie la prima categoria si proprio pelatissimo non so collina che ne so un'altra che ne so si danno a pandeva anche pandev figo giusto pandev vabbè poi un lino banfi lo mettiamo col riporto dietro a paletta col riporto figo a conte per i trapiantati giusto allora partiamo con il signor blur alla blur ha un problema ma proprio ultimamente sta stampiando ed è brutto qua era molto capellone ma nell'ultimo anno sta sfoltendo non è brutto ma proprio alla grandissima e si vede quando si fa i capelli all'insù aia guarda guarda qua purtroppo c'è un chiaro segno di stempia stempiatura potente e blur è destinato a una fine comunque non positiva a livello capillare però quando si fa così il codino sta diradando ed è brutto io lo metterei pandev perché ha l'inizio di sfoltimento qua ampio sulla fronte e potrebbe anche ampliarsi dopo quindi blur pandev comunque purtroppo gli ha i capelli ma secondo me finisce caparezza nella sua cioè gli avrà gli avrà ancora i capelli patrizio official è già 40 anni c'è questo raghezzo e purtroppo è pieno di capelli che potrebbe farsi un riporto io lo metterei paletta paletta cioè potrebbe diventare paletta secondo me qui c'è il buon dexter dexter si è messo molto male si vede poco ma male einson è più il ipoto mamma mia qua per fortuna Crash Dexter diventerà sicuramente pelato secondo me lui diventerà pelato come me Secondo me è collina Grimbaud Grimbaud io l'ho visto anche dal vivo Vi devo dire, ti devo dire che i capelli purtroppo li ha Li ha anche se ha qualche sintomo Sì, qualche buco Di pericolo Sembra un riporto, io lo metterei paletta Diventerà paletta, mi dispiace Allora qua c'è Xuderon Lui ha molti capelli Tra l'altro sta malissimo con questa pettinatura Xuderon, ahimè Caparezza Ah, 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 ahiaiai Hank È ingannevole perché sembra che li abbia Ma sotto sotto Ma sotto sotto secondo me sta andando Con uno sfoltimento Già qua si vede comunque che c'ha un sfoltimento Un diradamento Lino Banfi Ce li avrà ai lati ma davanti Esatto Un'autostrada Moccia Purtroppo Cerà un diradamento Però quando c'è gli allunghi Guarda qua C'è un casco Purtroppo Moccia Ce li ha Ah, 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 ah Qua c'è il mio amico Cerrone Cerrone Ah, ah, ahiaiai Cerrone lo vedo molto male Cerrone È già pelato Guarda che diradamento incredibile No, no, no Qui non va bene Per fortuna Cerrone li perde Lo valuterei tra Lino Banfi e Collina È arrivato il mio migliore amico Fabio Z Mi padre Fabio Z Qua purtroppo i capelli li ha e qua è Caparezzo Ah, 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 ah C'è Duzzo C'è Duzzo ragazzi Io l'ho visto dal vivo È malmesso Sì Per lui c'è la stricetta davanti da Pandev Sì, lui è proprio Lui è Pandev È power ragazzi È messo molto bene Purtroppo è messo molto molto bene Purtroppo è Caparezzo Eh Aia, ahia Sabaku Sabaku molto male Sabaku malissimo È messo di merda È messo davvero di merda È messo Però lui È colui che non si arrende Sa di essere pelato E di essere malmesso Ma non gliene è fotta una madonna Non c'è vergogna Sì, dici C'ho pochi capelli Quindi Elino Elino Banff Zanno ragazzi Zanno ragazzi è incinta a farlo Zanno non li perderà mai i capelli Porca croia Ah, ha detto che li sta perdendo Ah, il padre è pelato L'acqua cambia tutto Eh no, allora qua E qua allora ragioniamo sul Pandev Lo mettiamo a questo punto in Pandev Con le vostre ultime rilevanze Pieric Ah, 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 ah Pandevino Però Pieric Secondo me va In versione paletta Si farà un riporto Allora Qua c'è un certo Raiden E questo C'è gli ha i capelli Mortacci sua No, Raiden È caparezzo Qua c'è un certo Merrino E ci sono alcune foto preoccupanti Eh Tipo qua Vedo un diradamento Importante C'è gli ha Aia Aia Eh Lo vedo male Merrino E purtroppo C'è gli ha Ce li ha pure tanti Flame Caparezzo Tutubi Eh Anche lui c'è i capelli Mortacci sua Eh Dudubi E purtroppo Caparezzo E qua andiamo dal mio amico Matteo KS E qua E qua si è ammessi male E qua si è ammessi molto male Purtroppo l'analisi Tricologica È quella di un diradamento Continuo E inesorabile Matteo diventa Collina Allora Qua abbiamo Un certo Ivan Grieco Che è già pelato Fortunatamente Perché io sono contento Comunque quando la gente È detta pelata Possiamo valutare O una possibilità Di trapianto Alla Conte Oppure Lo mettiamo nella categoria Collina Il rosso Il rosso Non lo so È uno che sta facendo live Ultimamente E questo ragazzi Ci gli ha i capelli Sì ma è anche giovane Ok Allora il rosso Me la rischio con la Zidane Me lo vado a mettere Perché cos'è È tutto comunque Indivenito Cazzo guardi E qua abbiamo Yotobi E ragazzi Yotobi Ultimamente ha avuto Un crollo Vabbè qua comunque Lo vediamo ragazzi Il diradamento Ormai È inesorabile Per Yotobi È la categoria Tra Pante e Zidane Sono indeciso Ma metto Zidane Perché sono in due Solo dai Allora qua abbiamo Un certo Lion Qua è messo malissimo Ai 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 C'ha una fronte Esatto Spaziosissima E qua non c'è Non c'è categoria migliore Lino Banfi Guarda Lino Banfi Allora a questo punto C'è un certo Nanni Questo Nanni Ha avuto dei capelli lunghi Mi sembra anche E oggi Oggi è rasato Però mi sembra che È Troppo di là Cioè è un rasamento Però Voluto Non tanto per diradamento Mi sembra Ce l'ha Ha un leggero diradamento Alla Pandev Anche lui Me la potrei rischiare Alla Pandev Per il futuro Me lo potrei rischiare Io me lo metterei Alla Pandev Nanni Allora qua ci sono io E Vabbè io ragazzi Vabbè però potrebbe Eserci una sorpresa Sì Perché io mi potrei mettere Nella sezione Conte Cioè Un domani Mi trapianto Cioè mi faccio Un casco dei capelli Mi uso l'apaccio Farrucchino Sì Chi lo sa Mi metto Conte Mi metto Il Masseo È un falso capellone Dici Già da qua si vede Un diradamento iniziale Sì Qua Anche si vede Guardatelo Nonostante ci sia Questa Capigliatura Travolta Però Aia Vedete Probabilmente Avendo usato Troppo La capigliatura Lunga Il cuoio capelluto Ne Ne ha avuto Un risentimento Non da poco Il destino È Lino Banfi Ah sì Sì Perché davanti Non ha neanche La possibilità Di Zidane Che comunque Davanti un po' Li aveva Perché già lì O Pandev Perché sta Andando Verso Il dietro Andrea Dell'88 Purtroppo Eh lui Lì ha Qua non si può fare altro Che andare nella categoria Caparezza Purtroppo sì Allora il maestro Gischianto Ormai Giustamente anche lui Si rasa Però lui ogni tanto Ha quella tendenza A farseli rimanere Un po' più lunghi E lì è Lino Banfi Paolo Cannone Proprio ultimamente Qualche settimana fa Ha avuto il buon coraggio Il buon senso Di rasarsi Si è rasato Era partito bene Era partito Però poi nel tempo Ha iniziato Un diradamento Costante È inesorabile Che lo ha portato Ultimamente Ad essere In questo stato Eh sì Cannone Alla collina Sì Un personaggio Che io so già Essere stato Trapiantato Si è trapiantato Da pochissimo È in uno stato Anche lui Molto avanzato Di diradamento Non si arrende Perché comunque Il ciuffo Lo cerca Di mantenere Qua già è riportato Comunque Però avendo La categoria Conte La dobbiamo mettere Nella categoria Trapiantati Pinguine Trapiantati Tony Tubo Non è messo Benissimo Nel corso degli anni Ci sarà Un Uno sfoltimento Importante Io lo metterei Nella categoria Lino Banfi Allora qua abbiamo Il mio amico Ercole Ercole è malmesso È mal 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 Malmesso Però è uno di quelli Che non si arrende Perché Barcolla ma non mora Sì vedi Cioè si rasa Lateralmente Un po' come dicevi tu Che ti rasi E migliori Inganni un po' Inganni un po' Però Cioè alla fine Sono proprio duperi In testa Se si rasa sta bene Mettiamo categoria Homer Simpson Che forse potremmo far rientrare Qualcun altro Ah tipo Sabaku Sabaku potremmo farlo rientrare La categoria Homer A questo punto Allora viva la fazza Questo ce li ha Purtroppo Eh guarda lì Purtroppo Purtroppo E anche Daniel Caparezzo Allora qua abbiamo Pippega Lui dice essere Rasato Non pelato Però Lui mi sembra La capigliatura Un po' alla pande Ma anche se è rasato Allora Nello Taver Lo metto nella categoria Paletta Cioè sperando che un giorno Sfoltisca Per mettersi poi un riporto E a Dani ragazzi E Eh lui è capellone A Dani E frene pericoloso Lui potrebbe essere addirittura Un potenziale Lino Banfi Tra pandeve Lino Banfi Forse più pandeve dai Ah Luke 43 16 Sta sfoltendo Anche lui Però sta andando Verso la nuca Lo mettiamo Lino Banfi Aiaia Rubino 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 è messo Molto molto male E in più Lui si mette Il cappello Per Coprire Rubino In mezzo a una strada Rubino Collina Allora Rick Dufer Non vi faccio neanche vedere L'analisi Perché l'ho visto anche dal vivo Mortacci sua E' pieno di capelli Purtroppo Ve lo metto già nella categoria Caparezza Purtroppo Non c'è proprio possibilità Di analisi qua Allora Ciccio Gamer Sembra che li abbia Sì E' un po' di steppio No neanche Sta iniziando adesso Forse No no Ne abbastanza Io lo metterei Pandev Ciccio Salve Giocherigno Invece si è fatto il trapianto Quindi Giocherigno E' già conte Cioè già ufficializzato Fine Aiaia Franchino è criminale E lui è mezzo a una strada Molto mezzo a una strada Lui è andato ragazzi Omer Mezzo a una strada E lui tra Pandev e Omer Cioè vei ora qua C'è proprio due peli Il testo Allora Mike Shusha Ultimamente Sta sfoltendo molto Nella zona Della stempiatura Laterale Tra Pandev e Zidane Potrei dare anche del Zidane Zidane che ne abbiamo pochi Dai Rob Chi Macqua Quack Questo è mezzo a una strada Questo è Questo è Omer Simpson Questo qua non si arrende Non si arrende Però è messo Proprio Male 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 Eh ragazzi Questo è Omer Eh sì Tyler Strikes Dobbiamo mettere caparezza Ragazzi ma no C'è possibilità Allora Pepo anche ce li ha purtroppo Social Boom Invece Sarà che li decolora Li fa È destinato A una pelata Bella pelata Lui diventa Pandev Quasi sicuro Allora I Bob È già messo male adesso I Bob Attualmente Eh no lui è più Zidane Kitano già si vede E Kitano è palesemente Pandev Kitano già dalla foto da qua Dalla piccola si vede Che è un mezzo a una strada pure lui Fartade Fartade mi sembra che li abbia E questo ragazzi ce li ha Quante caparezza Purtroppo Porca Allora Chris Laway Sta sfoltando L'ho visto anche dal vivo E Chris è destinato Eh Chris Zidane Cotto è il classico personaggio Che li ha Però ne ha Ne sono messi Sparsi Sì Non C'ha dei buchi Come se fosse dei buchi E Conte e Omer E Omer Perché c'ha C'è C'è gli ha Però Sono tutti diradati C'è ovunque C'è tutti diradati ovunque Allora Victor Lazzo Caparezzo Allora Dread E Dread purtroppo C'è gli ha Ovviamente sia Nello sfoltimento Nella fase sfoltimento Lo metterei in una In una categoria In prospettiva futura Un paletta Lo potrei mettere Dai Cioè che sfoltirà E non si arrende Dai Allora Dario Fleshonbog Blog Già si vede già da qua E lui è Lino Banfi Fatto e finito Proprio Non c'è possibilità di analisi Eh Sturniolo Purtroppo ce li ha Fubbe Essendo giovane Lo frega un po' Secondo me Fubbe È un futuro Pandev L'ho visto dal vivo Anche Perché quando hai capelli Sottili E quello lì poi I capelli sottili Vanno Sì Vanno Sì sì Prima di cadere Diventano sottili Eh E Gabbrone è uguale Uguale a Fubbe Stessa analisi Sala Pandev Poi già l'ho visto Sta già sfoltendo Sopra il Gab Qui l'ho visto Oh mi atol Ne ha Secondo me ne ha Oh mi atol Purtroppo ne ha Ah erfaina Ah erfaina Aia Ah 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 Aia Guarda lì E questo è un diradamento Importante Importante No Faina non è uno Che si arrende Alla calvizia Faina Secondo me Secondo me si Trapianterà Dada potrebbe essere Un futuro Trapiantato Anche lui L'ho detto Trapiantato Conte Timus li ha i capelli Però Ha un futuro Da Pandev Anche lui Perché Secondo me Lo sfoltimento E Anche per lui Ci sarà breve Le colli Pandev E già adesso È Pandev E no Invece Futurmotta C'ha un casco Dei capelli Ma Futurmotta Purtroppo Ce li ha Vabbè È giovane Ancora Mangaka È già pelato Io lo metterei Tra i possibili Trapiantati Come me Comunque Perché Chi è già pelato Magari In futuro Sdrumox È anche Il classico Ragazzo Con capelli Fini Che abbiamo Detto Più e più Volte Sdrumox Potrebbe Diventare Un Zidane Mettiamo Un Zidane Sì È Silvestrin Ce li ha i capelli Porca puttana Questo ha 50 anni Questo non Non ha Retra di un Millimetro Non ha Retra Damiano Alberti È giovane Ha 20 anni Quindi vado Con una previsione A lungo termine Visto che È molto bello Lui Perché è un bel figo C'ha La faccia allungata Magro Alto Un bel modo di fare E io gli auguro Un paletta C'è una Possibilità in mezzo Di riporto Però mal fatta Allora Fabio di una Camper 2 È anche lui È in mezzo a una strada Sta diradando Di brutto È già sui 30 Fabio è Praticamente Uno Zidane Allora Luca King Minchia C'ha dei capelli Micidiali Questo Porca puttana E questo Sembra che C'ha incollati E c'ha inculati E questo C'ha inculati E Lollo Lacustre E mi sembra Palesemente Una possibilità Di pander Ah eccolo qua Rosario Lo metterei Su paletta Lo metterei Ah Just Ron Sta sfoltendo Davanti Lo vedo Già con Una sfoltatina Della stempiata In prospettiva Futura Secondo me Lui si Trapianterà Bicius Questo Sembra che Si riporti Di lato Eh No dai Ne ha Però è un bel riportone Eh ma son quei riporti Micidiali Questi Eh Sono così finti Eh Potrebbe già essere Un barrucchino Conte Un barrucchino Conte Qua ragazzi Questo qua Questo qua non ce li ha in mezzo Io lo metto paletta Volpesco anche Mi sembra che purtroppo Li abbia Mi sembra Panetti Lui dice che Si rasa Da quando Ha tipo 14 anni E quindi è Omer Cioè rimane Ah vero No collina Più collina Si rasa sempre Vuole mantenere Campolunghi Questo c'ha un casco di capelli Però è giovane C'ha 20 anni Vogliamo augurare Gli era una pelata Io gliela augurei Augurerei Una pelata Anche una gentile Io gliela Una zidana Una zidana Lui è anche della Juve Così è contento Allora il pancio È in mezzo a una strada No ma lo metto collina Anche a lui Allora Joy Invece c'ha un sacco di capelli Joy E questo ce li ha Allora Joy Questo qua è il figlio di Cecchetto Allora visto che Cecchetto Comunque I capelli Già li ha Lui li ha Anche ha un bel casco di capelli Caparezza Eh questo è caparezza Caparezza Porca Allora qua abbiamo Rospo Che ce li ha i capelli Però se li decolora E non fa bene E non fa bene Quindi potrebbe Gli auguriamo Una pelata Sì Gli auguro Una gentile Sarebbe bello Lino Banfi Sarebbe bello Questi sono auguri Più che analisi Però va bene Allora Lino Banfi Allora e qua ci sono io Pre pelata Pre pelata Guarda come ero messo male Lino Banfi E qua ero tra Lino Banfi E paletta Quello lì che era tutto in mezzo Comunque con pochi capelli Ma i lati Tra Lino Banfi E paletta Dovrei mettermi qua in mezzo Ma non si può mettere Purtroppo Mi metterei paletta Mi metterei paletta Ma non si può mettere